La 14esima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Andiamo a premiare ora l'eccellenza dell'anno Innovazione e Leadership Marketing Finanziario. And the winner is FGN Consulting! Uh, grandissimo entusiasmo per FGN Consulting! Andiamo a capire il perché di questo riconoscimento per il percorso di crescita e successo intrapreso negli ultimi anni, per confermarsi leader di mercato, grazie ad una combinazione di competenze specialistiche, visione strategica e una solida capacità di esecuzione, per offrire ai propri clienti opportunità di crescita a lungo termine, che garantiscono risultati stabili e duraturi. Ancora un applauso per FGN Consulting e il loro entusiasmo, eccoli, bravissimi! Foto di erito, ma ce ne saranno altre che vi aspettano al photocall. Diamo il nostro benvenuto alla dottoressa Valentina Zaino, direttrice amministrativa di FGN Consulting, eccellenza italiana e internazionale, che offre servizi finanziari con sede a Milano, Roma e Londra. Ci spiegherebbe la storia della vostra società e come va il vostro logo è un leone blu. Allora, intanto buonasera a tutti. Allora, la storia della nostra società, quindi di FGN Consulting, è la storia di Francesco Noto, che è fondatore e nonché amministratore delegato. E lui, grazie comunque alla sua esperienza nel mondo finanziario, insieme a tutto il nostro staff, quindi comunque ai suoi collaboratori e appunto tutte persone esperte del settore commerciale, del settore finanziario, nonché anche laureati delle migliori università italiane, è riuscito a creare una realtà solida e indipendente che garantisce tre valori essenziali, che sono la discrezione, la fiducia e la sicurezza. Il leone è blu perché il leone è il nostro logo, perché il leone è simbolo di qualità e virtù positive, che sono appunto la nobiltà, il coraggio, la fierezza. Ed è blu perché il blu è l'emblema dell'equilibrio e questo è tutto ciò che vogliamo appunto dare al nostro cliente. Dottoressa Zaino, la sua è una storia molto interessante, perché dopo anni di esperienze in diverse società finanziarie, è entrata a far parte di questa start-up, che in poco tempo ha raggiunto dei risultati notevoli. Cosa l'ha spinta verso questa decisione? Allora, diciamo che ho voluto intraprendere questa avventura, quindi iniziare questa collaborazione con il dottor Noto, perché appunto mi ha dato la possibilità di sviluppare e creare una struttura solida, quindi una realtà indipendente, che mette al primo posto, quindi in primo piano, quelle che sono le necessità dei clienti, però mantenendo anche alta la considerazione di quelli che sono i collaboratori, quindi il cliente e il collaboratore sono importanti nella nostra società. Il settore dei servizi finanziari, come sappiamo, è altamente competitivo. Cosa vi distingue dai competitor? Allora, quello che ci distingue dai competitors è sicuramente il fatto di aver creato una struttura snella, quindi una struttura flessibile, dinamica, che ci permette quindi di raggiungere alte performance e quindi anche di saper garantire delle soluzioni dedicate o comunque anche proprio personalizzate in base alla tipologia di cliente che abbiamo. Questa sera FGN Consulting è stata insegnita dall'Award Le Fonti per la sua posizione di eccellenza nel settore finanziario. Cosa rappresenta per voi questo riconoscimento? Allora, sicuramente è un motivo di grande orgoglio e un onore essere qui e quindi speriamo che se mai ci sarà insomma un'altra occasione di essere richiamati, quindi di essere ricandidati e di vivere questa esperienza insomma fantastica.